Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dragonsteak TV, la rete mobile gaming italiana. Stay Dragon. Bye! Dato che non posso farvi vedere il video in cui me l'è uscite, oggi ragazzi ci limitiamo a contenerci. Ok basta cazzate. Dunque ragazzi oggi vi mostro la mia Valkyria Escile Edition. Non mancate ragazzi perché tra pochi giorni ci sarà anche un altro nuovo episodio con un'altra truppa edizione Halloween. Vi auguro quindi una buona Escile Visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.